Lo squalo di Peter Bensley parte prima capitolo terzo trascorsero parecchi minuti prima che Brody si sentisse in grado di reggersi in piedi tornare all'auto e richiedere un'ambulanza dall'ospedale di Southampton e trascorse quasi un'ora prima che l'ambulanza arrivasse e quei resti umani venissero cacciati in una sacca di plastica e portati via. Alle 11 Brody era di nuovo nel suo ufficio a compilare i formulari riguardanti il caso. Era arrivato al causa del decesso quando il telefono squillò. Qui Carl Santos Martin disse la voce del medico legale. Salve Carl che mi dici? A meno che tu non abbia motivi per sospettare di un delitto io direi che si tratta di uno squalo. Delitto? Non voglio insinuare nulla. Intendo solo dire che è possibile molto alla lontana che qualche pazzoide abbia reso il servizio alla ragazza con una cetta e una sega. Non credo si tratti di delitto Carl. Non abbiamo il movente né l'arma né a meno di tirarlo per i capelli un indiziato. E allora si tratta di uno squalo e di una bestiaccia grossa anche. Neppure l'elica di un transatlantico avrebbe combinato un lavoro simile. Avrebbe potuto tranciarla in due ma... Ok Carl lo interruppe Brody. Risparmiami i particolari macabri. Non ho lo stomaco nelle condizioni adatte. Chiedo scusa Martin. Ad ogni modo io la registro come vittima di squalo. Mi sembra la cosa più verosimile anche per te a meno che non ci siano beh... sai altre considerazioni. No dichiarò Brody. In questo caso no. Grazie della telefonata Carl. Riappese. Scrisse a macchina aggredita da uno squalo nello spazio riservato alla causa del decesso sul modulo e si appoggiò allo schienale. La possibilità che in quella faccenda potessero esserci di mezzo altre considerazioni non si era presentata alla sua mente. Tali considerazioni erano la parte più delicata del lavoro di Brody e lo costringevano continuamente a studiare il modo migliore per salvaguardare il bene pubblico senza compromettere se stesso o la legge. Si era all'inizio della stagione estiva e Brody sapeva che dal successo o del fallimento di quelle dodici brevi settimane dipendeva per Emity la vita di tutto un anno. Una stagione fortunata significava prosperità sufficiente a far superare il magro inverno al piccolo centro. La popolazione invernale di Emity era di circa 1000 abitanti. Durante un'estate favorevole passava di colpo a 10.000. E di quei 9.000 avvilleggianti alimentavano i 1000 residenti stabili per tutto l'anno. I commercianti, dai proprietari del negozio di ferramenta a quello di articoli sportivi, dai due distributori di benzina al farmacista del luogo, avevano bisogno di un boom estivo che li sostenesse nell'inverno, periodo in cui non riuscivano mai a chiudere in pari il bilancio. Le mogli dei falegnami, elettricisti e idraulici, d'estate lavoravano come cameriere o agenti immobiliari per collaborare al mantenimento delle famiglie nella stagione morta. C'erano solo due locali autorizzati a vendere alcolici per tutto l'anno ad Emity. Di conseguenza quelle 12 settimane estive erano fondamentali per buona parte dei ristoranti e dei bar. I pescatori che noleggiavano barche avevano assoluto bisogno di alcune cose ben precise. Bel tempo, buona pesca e soprattutto gente. Anche dopo l'estate più felice, gli inverni erano duri per Emity. Tre famiglie su dieci vivevano dei sussidi dell'assistenza pubblica. Decine di uomini erano costretti a spostarsi sulla costa settentrionale di Long Island, dove si arrabbattavano per trovare lavoro, magari a sgusciare molluschi per pochi dollari al giorno. Brody sapeva che un'estate negativa avrebbe quasi raddoppiato le liste delle persone assistite dal comune. Se le case non venivano tutte affittate, non ci sarebbe stato lavoro sufficiente per i neri di Emity, che per lo più erano giardinieri, domestici, baristi e cameriere. E due o tre stati cattive di fila, circostanza che, per fortuna, non si verificava da una ventina d'anni, potevano dare luogo a un ciclo che avrebbe rischiato di rovinare la cittadina. Se gli abitanti non avevano abbastanza denaro per comprare abiti o benzina o abbondanti scorti alimentari, se non potevano permettersi un'adeguata manutenzione delle loro case con i loro relativi accessori, allora i negozianti e coloro che offrivano i vari servizi non avrebbero guadagnato a sufficienza per tenersi a galla fino all'estate successiva. Avrebbero chiuso bottega e i cittadini di Emity sarebbero andati altrove a fare acquisti. L'amministrazione avrebbe visto calare le entrate fiscali, i servizi municipali si sarebbero deteriorati e la gente avrebbe cominciato a trasferirsi altrove. Si era giunti dunque ad Emity a un accordo generale, anche se tacito, nato dalla necessità di sopravvivenza. Ognuno doveva fare la sua parte per garantire che Emity continuasse a essere un gradevole centro di villeggiatura. Alcuni anni prima, ricordava Brody, due giovanotti, due fratelli, erano venuti a stabilirsi lì e si erano messi a lavorare come falegnami. Erano giunti in primavera, quando c'era abbastanza lavoro per sistemare le case dei residenti estivi da tenere tutti occupati. Così furono i benvenuti. Parevano abbastanza in gamba nel loro mestiere. E diversi falegnami del luogo cominciarono a passare loro degli incarichi. Ma verso metà dell'estate cominciarono ad arrivare segnalazioni inquietanti circa i fratelli Felix. Albert Morris, proprietario del negozio di ferramenta, fece sapere che i due acquistavano chiudi d'acciaio scadente invece che zincato, facendoli poi pagare ai clienti come zincati. In un clima maritimo i chiudi d'acciaio cominciano ad arrugginire nel giro di pochi mesi. Dick Spitzer, che gestiva il deposito di legname, riferì a qualcuno che i Felix avevano fatto un'ordinazione di legno scadente, non stagionato, da usare per alcuni armadietti, in una casa di Scotch Road. Le ante cominciarono a imbarcarsi poco dopo l'installazione. Una sera, in un bar, il maggiore dei Felix, Armando, raccontò come un vanto a un compagno di bevuta che nel lavoro che aveva per le mani al momento avrebbe dovuto fissare dei travetti di sostegno a distanza di 40 cm l'uno dall'altro e che invece li piazzava a 60. E il minore dei Felix, Danny, un ragazzotto di 21 anni afflitto da un'acne ostinatissima, si compiaceva di mostrare ai suoi amici libri a carattere erotico, gloriandosi di averli rubati in case dove lavorava. Gli altri falegnami smisero di passare lavoro ai Felix, ma a quel punto i due si erano creati un certo giro che li avrebbe mantenuti in attività per tutto l'inverno. Senza il minimo chiasso, la congiura di Emity cominciò a operare. Dapprima ci furono solo alcuni piccoli accenni intesi a far capire ai Felix che non erano più bene accetti. Armando reagì con arroganza. Ben presto cominciò a essere vittima di piccoli incidenti seccanti. Tutti i pneumatici del suo furgoncino si sgonfiarono misteriosamente e quando lui telefonò al distributore della Gulf per chiedere aiuto, gli fu detto che la pompa dell'aria era guasta. Quando si ritrovò senza gas per il fornello di cucina, la ditta locale impiegò otto giorni per fornirgli una nuova bombola. Le sue ordinazioni di legname e altre forniture andavano inesplicabilmente smarrite o le consegne avvenivano con forti ritardi. In negozi dove un tempo comperava credito, adesso era costretto a pagare in contanti. Alla fine di ottobre i fratelli Felix si trovarono nell'impossibilità di continuare a lavorare e levarono le tende. In linea di massima, il contributo di Brody alla congiura di Amity, oltre a mantenere l'ordine a far osservare la legge, consistiva nel mettere a tacere gli scandali e di conserva con Henry Meadows, il direttore del leader di Amity, porre sempre sotto una certa luce i rari avvenimenti incresciosi che meritavano l'onore della cronaca. Le violenze carnali dell'estate precedente erano sì state segnalate dal leader, ma in tono minore, come molestie. In quanto Brody e Meadows avevano convenuto che lo spettro di un maniaco sessuale di colore, che faceva la posta a tutte le donne di Amity, non avrebbe giovato al turismo. In quel caso c'era in aggiunta il problema che nessuna delle signore che avrebbe denunciato alla polizia di essere state violentate era disposta a raccontare la cosa ad altri. Se uno dei più facoltosi residenti estivi di Amity veniva arrestato per guida in stato di ebrezza, Brody era disposto, a quella prima trasgressione, a multarlo per guida senza patente e tale accusa veniva debitamente riportata sul leader. Ma Brody metteva bene in chiaro con la persona in questione che se il fatto si fosse ripetuto sarebbe stato accusato e processato per aver guidato in preda ai fumi dell'alcol. Il rapporto di Brody con Meadows si basava su un equilibrio delicato. Quando dei gruppi di ragazzotti calavano in città da Hampton e combinavano guai, a Meadows venivano passati tutti gli elementi, nomi, età, capi d'accusa. Quando i giovani di Amity facevano troppo baccano a una festa, di solito il leader pubblicava un paragrafetto senza nomi e indirizzi a informare il pubblico che la polizia era stata chiamata a intervenire per certi schiamazzi notturni in, diciamo, Old Mill Road. Poiché diversi vileggianti trovavano divertente essere abbonati al leader per tutto l'anno, la questione degli atti vandalici che si verificavano d'inverno ai danni delle residenze estive era particolarmente delicata. Per anni Meadows aveva ignorato la cosa, lasciando che Brody si preoccupasse di informare il proprietario, punire i responsabili e spedire a chi di dovere le riparazioni della casa. Ma nell'inverno del 1968, nel giro di poche settimane, ben 16 case furono oggetto di atti vandalici. Brody e Meadows riconobbero insieme che era giunto il momento per una campagna in grande stile sul leader contro i teppisti che operavano d'inverno. Come risultato, 48 case vennero collegate con impianti elettrici alla stazione di polizia, il che, poiché si ignorava quali case fossero collegate e quali no, eliminò quasi completamente le iniziative vandaliche, facilitò di parecchio il lavoro a Brody e diede a Meadows l'aura di giornalista coraggiosamente impegnato per il pubblico interesse. Di tanto in tanto, Brody e Meadows si scontravano. Brody era un nemico fanatico degli stupefacenti, era anche un individuo dotato di antenne giornalistiche di sensibilità eccezionale e quando captava una notizia, che non fosse suscettibile di altre considerazioni, ci stava appresso come un maiale con i tartufi. Nell'estate del 1971, la figlia di una delle più ricche famiglie di Emity era morta nelle vicinanze di Scotch Road. Secondo Brody, non c'erano elementi che facessero pensare a un delitto e poiché la famiglia si era opposta all'autopsia, il decesso venne ufficialmente attribuito ad annegamento. Ma Meadows aveva motivo di ritenere che la ragazza facesse uso di droga e che questa le venisse fornita dal figlio di un coltivatore di patate, un polacco. Occorsero quasi due mesi a Meadows per ricostruire i fatti, ma alla fine impose un'autopsia, la quale dimostrò che al momento in cui era annegata, la ragazza era priva di conoscenza a causa di una dose eccessiva di eroina. Riuscì anche a rintracciare lo spacciatore e smascherò un giro di droga abbastanza ampio che operava nella zona di Emity. Quella vicenda fu un brutto colpo per il piccolo centro e ancor più per Brody che, comportando il caso di diversi reati che riguardavano il governo federale, non poteva riscattare la sua negligenza neppure compiendo un paio di arresti. Gli articoli valsero a Meadows due premi giornalistici regionali. Adesso era la volta di Brody di insistere per una completa divulgazione dei fatti. Intendeva chiudere le spiagge per un paio di giorni, per dar tempo allo squalo di allontanarsi dalla costa di Emity. Ignorava se gli squali, dopo averla assaggiata, imparano ad apprezzare la carne umana, come a quanto sembra succede con le tigri, ma era ben deciso a non fornire altro cibo del genere a quella bestia. Questa volta voleva un'ampia pubblicità, perché la gente avesse paura dell'acqua e se ne tenesse alla larga. Brody sapeva che ci sarebbe stato un solido argomento contro la divulgazione del fatto. Come tutto il resto del paese, Emity risentiva ancora degli effetti della recessione. Ora come ora, l'estate si profilava piuttosto mediocre. Gli affitti erano saliti rispetto all'anno precedente, ma non erano poi granché. C'erano diversi gruppi, bande di 10 o 15 giovani che venivano dalla città e si dividevano le spese di locazione di una casa grande. Almeno una dozzina delle ville sul mare, da 7.000-10.000 dollari a stagione, non erano ancora state affittate e molte più, a livello di 5.000 dollari, erano ancora senza inquilini. L'annuncio sensazionale della presenza di uno squalo, che aveva già fatto una vittima, avrebbe potuto trasformare la mediocrità in crollo totale. Pure, pensava Brody, una disgrazia a metà giugno, prima dell'arrivo del grosso del contingente, forse sarebbe stata presto dimenticata. Di certo avrebbe avuto meno effetto di altri due o tre casi analoghi. Lo squalo poteva essere già scomparso, ma Brody non era disposto a mettere a repentaglio vite umane puntando su quella possibilità. C'erano buone probabilità in quel senso, ma la posta in gioco era troppo alta. Formò il numero di Meadows. «Salve, Harry», disse. «Sei libero per colazione?» «Mi chiedevo appunto quando mi avresti chiamato», rispose Meadows. «Certo, da me o da te?» Adesso Brody si pentì di aver telefonato all'ora di pranzo. Aveva lo stomaco in subbuglio e l'idea del cibo gli dava la nausea. Lanciò un'occhiata al calendario appeso al muro. Era giovedì. Come tutti i loro amici, che vivevano di entrate fisse, certo non larghe, i Brody facevano la spesa seguendo le offerte speciali del supermarket. L'offerta speciale del lunedì era pollo, il martedì agnello, e così via per tutta la settimana. Via via che si consumavano le provviste, Ellen le annotava sulla lista della spesa per impiazzarle la settimana presso. Le uniche varianti erano rappresentate da pesci serra o da spigole, che comparivano sul loro menù, quando qualche pescatore, dopo una retata particolarmente abbondante, regalava loro del pesce. L'offerta speciale del giovedì erano gli hamburger, e Brody per quel giorno aveva già visto abbastanza carne maciullata. «Da te», rispose. «Perché non ordiniamo qualcosa al sì? Possiamo mangiare nel tuo ufficio». «Per me è benissimo», acconsentì Meadows. «Cosa vuoi tu? Ordino subito». «Un tramezzino con uova sode, direi». «È un bicchiere di latte. Arrivo tra poco». Quindi telefonò a Ellen per avvertirla che non sarebbe rientrato a pranzo. Harry Meadows era un uomo immenso, per il quale il fatto di tirare il fiato era già uno sforzo sufficiente imperlargli l'affronte di sudore. Era vicino ai 50, mangiava troppo, fumava, uno appresso all'altro, sigari da quattro soldi, beveva whisky di primissima qualità, ed era, per usare le parole del suo medico, il primo candidato al mondo occidentale ad un solenne infarto. Quando Brody arrivò, Meadows era in piedi accanto alla scrivania e agitava un tovagliolo in direzione della finestra spalancata. «In omaggio a quello che, in base alla tua ordinazione per il pranzo mi risulterebbe uno stomaco sottosopra, spiegò, sto cercando di purificare l'aria della fragranza dei miei white hole». «Te ne sono grato», rispose Brody. Si guardò attorno, nel piccolo locale ingombro, cercando un posto dove sedersi. Sbatti via la robaccia che sta su quella sedia, consigliò Meadows. «Sono semplicemente relazioni governative, relazioni mandate dalla Contea, relazioni dello Stato, relazioni della Commissione per le Autostrade e della Commissione per le Acque Pubbliche. Probabilmente sono costate un milione di dollari e, dal punto di vista dell'informazione, non equivalgono neanche a uno sputo». Brody raccolse il fascio di documenti e la monticchiò su un calorifero. Quindi accostò la sedia alla scrivania di Meadows e vi si accomodò. L'altro si mise a frugare in un grosso sacchetto di carta, tirandone fuori un bicchiere di plastica e un sandwich avvolto nel celofan, che spinse attraverso la scrivania, verso Brody. Poi cominciò a togliere dagli involucri la propria colazione, quattro pacchetti separati che scartocciò disponendoseli dinanzi con la cura amorosa del gioielliere che mostra gemmerare. Uno spilatino con polpette di carne, trasudante salsa di pomodoro, un vassoietto di plastica colmo di patate fritte, untuose, un cetriolo sott'aceto grande quanto uno zucchino e un buon quarto di crostata al limone. Allungò un braccio dietro di sé e prese da un mini frigorifero una lattina grande di birra. Che delizia, commentò con un sorriso mentre contemplava il banchetto che aveva di fronte. Incredibile, borbottò Brody, soffocando un rutto acre. Cavolo, proprio incredibile. Avrò mangiato un migliaio di volte insieme a te, Harry, e ancora non riesco a farci l'abitudine. Ciascuno di noi ha le sue piccole debolezze, amico mio, dichiarò Meadows afferrando il suo sfilatino. Alcuni danno la caccia alle mogli altrui, altri si perdono nel whisky. Io trovo conforto nella soddisfazione di appetiti più naturali. Bel conforto sarà per Dorothy quando il tuo cuore dirà, adesso basta, amico bello, adios. Ne abbiamo discusso, Dorothy e io, replicò Meadows, filtrando le parole attraverso un boccone di carne e pane. E abbiamo convenuto che uno dei pochi vantaggi che l'uomo ha rispetto agli altri animali è la sua possibilità di scegliere il modo di procurarsi la morte. Il cibo potrà benissimo uccidermi, ma è anche ciò che ha reso tanto piacevole la mia esistenza. Inoltre preferisco senz'altro andarmene con il mio sistema, piuttosto che finire nella pancia di uno squalo. E dopo stamattina sono certo che sarai d'accordo anche tu. Brody, che stava per inghiottire un pezzetto di tramezzino di uova sode, dovette cacciarlo giù a forza, lottando con uno spasmo dalla bocca dello stomaco. Non farmi questi scherzi, si mormorò. Per qualche minuto mangiarono in silenzio. Brody terminò il tramezzino e il latte, appalottolo il cellophane e lo cacciò nel bicchiere di plastica. Quindi si appoggiò allo schienale e accese una sigaretta. Meadows stava ancora mangiando, ma Brody sapeva che nessuna discussione avrebbe potuto alterare il suo appetito. Ricordava una volta in cui Meadows si era recato sulla scena di un orrendo incidente d'auto e aveva attaccato a intervistare agenti e sopravvissuti, leccandosi tranquillo un ghiacciolo alla noce di cocco. Su questa faccenda della Watkins, cominciò a dire, avrei un paio di idee se hai voglia di sentirle. Meadows a noi. Per prima cosa direi che la causa della morte è bel che è definita. Ho già parlato con Santos e... anch'io. Allora sai come la pensa? Si è trattato di uno squalo, senza dubbio. E se avessi visto il corpo, saresti d'accordo. Non c'è proprio... l'ho visto. Brody era sbalordito, più che altro perché non riusciva a capacitarsi di come una persona che avesse avuto sotto gli occhi quella cosa oripilante potesse adesso starsene lì a leccarsi dalle dita la farcitura del dolce al limone. Allora condividi il parere? Si, sono convinto che sia stato uno squalo a ucciderla. Ma ci sono alcune cosette che non mi sono molto chiare. Per esempio? Ad esempio, come mai andato a fare un bagno a quell'ora di notte? Sai che temperatura avevamo verso mezzanotte? 16 gradi. E sai a quanto era l'acqua? Circa 10 gradi. Bisogna essere matti da legare per andare a farsi una nuotata in simili condizioni. Obbriachi, osservò Brody. E probabilmente lo era. Forse. No, hai ragione. È probabile. Mi sono informato un po' attorno e i food non pasticciano con erba, mescalina o robaccia del genere. Però c'è un'altra faccenda che mi lascia perplesso. Brody era seccato. Per l'amor di Dio, Harry, non andare a caccia di ombre. Capita ogni tanto che la gente muoia per una disgrazia. Non si tratta di questo. Solo è maledettamente strano che ci troviamo qui in giro uno squalo quando l'acqua è ancora così fredda. Ah sì? Magari ci sono squali a cui piace l'acqua fredda? Chi ne sa niente sugli squali? Ce ne sono diversi tipi. C'è lo squalo della Groenlandia, ma non si spinge mai tanto a sud. E anche se lo facesse di solito non molesta l'uomo. Chi ne sa niente sugli squali, dici? Ti dirò una cosa. Ora come ora, ne so un mare di più di quanto ne sapessi questa mattina sull'argomento. Dopo aver visto quanto restava di Miss Watkins, mi sono messo in contatto con un ragazzo che conosco, suo, all'istituto oceanografico di Woods Hole. Gli ho descritto i resti e quello che ha detto con tutta probabilità c'è solo un tipo di squalo capace di combinare un lavoro del genere. Che squalo? Lo squalo bianco. Ce ne sono altri che aggrediscono l'uomo, come lo squalo tigre, il pesce martello e magari perfino i maco o le verdesche, ma questo Hooper, Matthew Hooper, mi ha detto che per stroncare in due una donna in quel modo deve trattarsi di una bestiaccia con una bocca così. Allargò le mani di quasi un metro. E l'unico che raggiunge simili dimensioni e aggredisce l'uomo è lo squalo bianco, che ha anche un altro nome. Sì? L'interesse di Brody cominciava a intiepidirsi. E quale sarebbe? Mangiatore di uomini. Altri squali attaccano l'uomo a volte, per i motivi più vari. Per fame, magari, o perché disorientati o perché sentono l'odore del sangue nell'acqua. A proposito, la Watkins aveva per caso il ciclo mestruale? E come diavolo faccio a saperlo? Semplice curiosità. Hooper ha detto che se c'era uno squalo attorno, fare il bagno in quelle condizioni e il sistema infallibile per farselo venire addosso. Che cosa ha detto circa la temperatura dell'acqua? Che è abbastanza normale che uno squalo bianco si spinga in acque così fredde. Qualche anno fa un ragazzo ci ha lasciato le bucce grazie a uno di questi signori, vicino a San Francisco, e l'acqua era a 14 gradi. Brody aspirò una lunga boccata dalla sigaretta e commentò, ti sei fatto un bel po' di ricerche, eh Harry? Mi è parsa un'esigenza, diciamo, dettata dal buonsenso e dall'interesse pubblico stabilire esattamente cosa è accaduto e se esistono probabilità che accada di nuovo. E hai determinato tali possibilità? Naturale, sono pressoché inesistenti. Da quanto ho potuto capire, si è trattato di un episodio del tutto fuori dalla norma. Stando a Hooper, l'unico fatto positivo in merito ai pescicane è che sono rari. Abbiamo tutti i motivi per ritenere che quello che ha aggredito la Watkins se ne sia andato da un pezzo. Non abbiamo scogliere qui attorno. Non ci sono impianti per la lavorazione del pesce o mattatoi che scarichino in acqua sangue o visceri. Dunque non c'è assolutamente nulla che possa destare l'interesse di uno squalo. Medus fece una pausa, fissando Brody che ricambiò l'occhiata in silenzio. Mi sembra dunque, Martin, che non vi sia ragione di mettere in allarme il pubblico per un fatto che quasi sicuramente non si ripeterà. È un modo di vedere la cosa, Harry. E un altro è, dato che probabilmente non si ripeterà, non c'è nulla di male nel rendere noto che si è verificato questa volta. Medus trasse un sospiro. Dal punto di vista giornalistico magari hai ragione, ma credo che sia uno di quei casi in cui dobbiamo lasciar perdere i dettami teorici, Martin, e a pensare a cosa è più opportuno per la gente. Non credo che gioverebbe al pubblico interesse diffondere questa notizia. Non sto pensando alla gente del luogo. Quelli che ancora non sono informati verranno a saperlo ben presto. Ma come la mettiamo con quelli che leggono il leader a New York, a Philadelphia, a Cleveland? Sei un bel presuntuoso. Balle, sai cosa voglio dire. E sai com'è la situazione degli affitti qui quest'estate? Ci reggiamo in piedi appena appena. Come pure altri centri, ad esempio Nantucket, Vineyard e a Est Hampton. C'è gente che non ha ancora deciso il programma dell'estate. E sanno che hanno ampia scelta quest'anno. Le case da prendere in affitto non mancano di certo in qualsiasi località. Se pubblico un articolo in cui si dice che una donna è stata sbranata da uno squalo gigantesco a largo di emiti, non affittiamo più una sola casa. Gli squali sono come gli psicopatici che fanno a pezzi la gente con la scure, Martin. La gente reagisce in modo viscerale. Hanno qualcosa di folle, di maligno, incontrollabile. Se andiamo a raccontare che da queste parti c'è uno squalo mangiauomini, possiamo dire ciao ciao alla nostra bella estate. Brodi a Nui. Sono perfettamente d'accordo, Harry. E non intendo far sapere che qui attorno c'è uno squalo mangiauomini. Considera la cosa dal mio punto di vista, solo per un momento. Non voglio mettere in dubbio i tuoi calcoli delle probabilità o altro. Magari vedi giusto. Quel pesce cane adesso si trova forse a centomiglia di qui e non si farà rivedere più. La cosa più pericolosa che ci sia in acqua adesso probabilmente è la risacca. Ma, Harry, resta sempre la lontana possibilità che tu ti sbagli e non credo che dobbiamo correre il rischio. Mettiamo solo per ipotesi che non diciamo una parola e che qualcun altro venga aggredito da quell'animale. Che succede allora? Io mi ritrovo con il culo alla finestra. Ho il dovere di proteggere la cittadinanza e se c'è qualcosa da cui non posso proteggerla, il minimo che possa fare è avvertirla che esiste un pericolo. E anche tu sei con il culo alla finestra. A te resta il compito di dare le notizie e non c'è dubbio che una persona rimasta vittima di un pesce cane rappresenti una notizia. Voglio solo che tu pubblichi la cosa, Harry. Intendo chiudere le spiagge solo per un paio di giorni e solo come misura di sicurezza. Non sarà un grosso fastidio per nessuno. Non è ancora arrivata molta gente e l'acqua è fredda. Se lo diciamo chiaro, se lo spieghiamo che è qualche successo e perché ricorriamo a certi provvedimenti, credo che avremmo già fatto un passo avanti. Meadows si appoggiò allo schienale e riflettè per qualche istante. Non posso dire nulla per quel che mi riguarda i tuoi compiti, Martin, ma quanto alla mia decisione è stata già presa. Cosa significa? Sul leader non comparirà alcuna notizia circa lo squalo. Così, punto e basta. Beh, non esattamente. Non è stata una decisione solo mia, anche se in linea di massima credo di trovarmi d'accordo. Io sono il direttore di questo giornale, Martin, e ne sono in parte proprietario, ma non in misura tale da permettermi di ignorare certe pressioni. Quali, ad esempio? Stamattina ho già ricevuto sei telefonate, cinque da inserzionisti, un ristorante, un albergo, due agenzie immobiliari e una gelateria. Erano ansiosissimi di sapere se avevo o no intenzione di pubblicare un articolo sull'episodio della Watkins e tenevano profondamente a farmi sapere che ai loro occhi la cosa più salutare per Emity sarebbe stato lasciare che tutta la faccenda sprofondasse in silenzio nelle nebbie dell'oblio. La sesta chiamata era di Mr. Coleman, da New York. Mr. Coleman possiede il 55% del leader. A quanto sembra Mr. Coleman aveva ricevuto a sua volta alcune telefonate e mi ha comunicato che sul leader non doveva apparire alcuna notizia del fatto. Immagino non abbia specificato se il particolare che sua moglie sia proprietario di un'agenzia immobiliare avesse qualcosa che vedere con tale sua decisione. No, riconobbe Meadows. L'argomento non è stato toccato. Chiaro. Beh, Harry, a che punto ci ritroviamo? Tu non hai intenzione di stampare la notizia e così per quel che riguarda i bravi lettori del leader non è accaduto niente di niente. Io, dal canto mio, ho intenzione di far chiudere le spiagge e piazzare alcuni cartelli a spiegare il motivo. Ok, Martin, questa è la tua decisione, ma vorrei rammentarti una cosetta. Tu hai una carica elettiva, giusto? Proprio come il presidente, per quattro anni saturi di brivido. E le cariche elettive possono essere revocate. È una minaccia, Harry? Meadows sorrise. Non dire assurdità. Inoltre, chi sono io per fare minacce? Desidero solo che tu ti renda conto di quel che fai prima di mettere in crisi la linfa vitale di tutte le sagge e le perspicaci anime che ti hanno eletto. Brody si alzò per andarsene. Grazie, Harry. Avevo sempre sentito dire che ci si sente soli qui sulla vetta. Quanto ti devo per la colazione? Lascia perdere. Non potrei mai accettare denaro da uno la cui famiglia fra poco si ritroverà a dovere lemosinare i buoni alimentari del governo. Brody si mise a ridere. Scordatelo, non lo sai? Il vantaggio del lavorare nella polizia è la sicurezza che ti dà. Dieci minuti dopo che Brody era rientrato in ufficio, il telefono interno suonò e una voce comunicò. C'è il sindaco che desidera vederla, capo. Brody sorrise. Il sindaco, non Larry Vaughn che passava a fare una visitina, non Lawrence Vaughn dell'agenzia immobiliare Vaughn e Penrose che veniva a legnarsi di qualche locatario turbolento, ma il sindaco Lawrence P. Vaughn, il prescelto dalla popolazione con una maggioranza di 71 voti alle ultime elezioni. Fai passare sua eccellenza, rispose Brody. Larry Vaughn era un bell'uomo sui 50, con folti capelli sale e pepe e un fisico mantenuto in forma grazie allo sport. Sebbene nato ad Emity, nel corso degli anni aveva acquisito un'aria di sobria raffinatezza. Aveva guadagnato un bel po' di quattrini con la speculazione edilizia del dopoguerra ad Emity, ed era il socio principale, alcuni ritenevano l'unico socio, visto che nessuno aveva mai incontrato o parlato con qualcuno che si chiamasse Penrose nell'ufficio di Vaughn, della più fiorente agenzia della cittadina. Vestiva con eleganza discreta, con giacche di stile inglese, sempre classiche, camicie con i bottoncini al colletto e moccassini. A differenza di Ellen Brody, che, passata dal ceto dei villeggianti a quello dei residenti fissi, non era riuscita ad adattarsi, Vaughn era sceso senza attriti dal mondo dei locali a quello degli estivi, superando con garbo ogni fase dell'arrampicata. Non era proprio uno di loro, perché di fatto restava un commerciante del luogo e di conseguenza non era mai invitato come ospite a New York o a Palm Beach. Ma ad Emity circolava liberamente nella cerchia dei villeggianti, salvo i più altezzosi, il che, si intende, faceva un mondo di bene al suo giro d'affari. Veniva invitato a quasi tutti i parties bene e si presentava sempre solo. Pochissimi dei suoi amici sapevano che a casa aveva una moglie, una donnina semplice, adorante, che trascorreva buona parte del suo tempo a ricamare a piccolo punto davanti al televisore. A Brody Vaughn era simpatico. Non lo vedeva molto durante l'estate, ma dopo il Labor Day, il primo lunedì di settembre, quando la stagione cominciava a declinare, Vaughn si sentiva autorizzato ad abbandonare parte delle sue squame mondane e ogni 15-20 giorni lui e sua moglie invitavano fuori a cena Brody ed Ellen in uno dei migliori ristoranti di Hampton. Quelle serate erano occasioni speciali per Ellen e la cosa in sé bastava a far contento Brody. Vaughn pareva comprendere Ellen, si comportava sempre con estrema amabilità trattandola come se appartenessero al medesimo giro e al medesimo club. Vaughn entrò nell'ufficio e si è dette. Ho appena parlato con Henry Meadows, attaccò subito. Vaughn era chiaramente agitato e la cosa interessò a Brody. Non si era aspettato una simile reazione. Capisco, mormorò. Henry non spreca tempo. Chi ti dà l'autorità di chiudere le spiagge? Me lo chiedi come sindaco, come agente immobiliare, per interesse amichevole o per cosa, Larry? Vaughn insistete, ma Brody vedeva che faceva fatica a contenersi. Voglio sapere chi te ne dà l'autorità. Voglio saperlo subito. Ufficialmente non credo di averne l'autorità, rispose Brody. In qualche punto del codice è detto che posso intraprendere ogni azione che ritengo necessaria in caso di emergenza, ma credo che aspetti ai consiglieri municipali a dichiarare la situazione di emergenza. Non penso che tu voglio imbarcarti in tiritere del genere. Proprio no. Beh, allora ufficiosamente ritengo stia a me tutelare nel modo migliore possibile la vita di quelli che abitano qui e al momento sono convinto che ciò comporti il chiudere le spiagge per un paio di giorni. Se si dovesse scendere al concreto, non credo che potrei arrestare chi entra in acqua per farsi una nuotata. A meno, Brody sorrise, di accusarlo di idiozia criminale. Vaughn ignorò il commento. Non voglio che tu chiuda le spiagge, dichiarò. Capisco. Sai bene perché. Il 4 di luglio non è lontano e quelle sono le giornate decisive. Sarebbe un tagliarci la gola con le nostre mani. È un'argomentazione che conosco e di certo tu conosci i motivi per cui io voglio chiudere le spiagge. Non è che io abbia qualcosa da guadagnarci. No, proprio il contrario, direi. Senti, Martin, questa cittadina non ha proprio bisogno di una simile pubblicità. E neppure ha bisogno che gli altri ci rimettono la vita. Ma, per l'amor del cielo, nessun altro ci rimetterà la vita. Se chiudi le spiagge non farai altro che invitare una frotta di cronisti a venire a ficcanassare qui senza una ragione al mondo. E con ciò? Arriverebbero e non trovando niente di interessante da offrire al pubblico se ne tornerebbero indietro. Non credo proprio che al New York Times interesserebbe pubblicare la cronaca del picnic organizzato dalla loggia massonica o della cena del circolo di giardinaggio. Ma dobbiamo comunque evitarlo. Menti che scoprano qualcosa. Ne verrebbe fuori una grossa bega che non farebbe certo comodo a nessuno. Scoprirebbero cosa, per esempio, Larry? Che potrebbero scoprire? Che potrebbero scoprire? Io non ho nulla da nascondere. E tu? No, certo che no. Stavo solo pensando... Magari quei casi di violenza carnale... Qualche scandaletto spiacevole. Al diavolo sbottò Brody. Quella è acqua passata. Maledizione, Martin. Vaughn cercava in tutti i modi di mantenersi calmo. Senti, se non vuoi dare retta al buonsenso, vuoi dare retta a me come amico? I miei soci mi stanno addosso a cava fiato. Una storia del genere potrebbe essere un bel guaio per noi. Brody si mise a ridere. È la prima volta che ti sento ammettere che hai davvero dei soci, Larry. Credevo che tu mandassi avanti la tua baracca come direttore indiscusso. Vaughn era in imbarazzo, come se si accorgesse di aver detto troppo. I miei affari sono parecchio complessi, spiegò. Certe volte non so bene neanche io come marciano gli ingranaggi. Fammi questo favore. Questa volta soltanto. Brody fissò Vaughn cercando di farsi un'idea dei suoi motivi. Mi dispiace, Larry. Non posso. Sarebbe un venir meno al mio dovere. Se non mi dai ascolto, dichiarò Vaughn, potresti non avere più ancora per molto un dovere da svolgere. Non hai la minima autorità su di me. Non puoi defenestrare nessun poliziotto. Buttarlo fuori dal corpo di polizia no. Ma... tu che ci creda o no, ho una certa possibilità di intervento per quanto riguarda il posto di capo della polizia. Non ci credo. Vaughn trasse dalla tasca della giacca una copia dello statuto del municipio di Emity. Leggilo tu stesso, disse, sfogliando fino a trovare la pagina che cercava. È qui, a questo punto. Tese l'opuscolo a Brody attraverso la scrivania. In sostanza si dice che per quanto tu sia stato eletto alla tua carica dalla cittadinanza, i consiglieri municipali hanno la possibilità di destituirti. Brody lesse il paragrafo indicato da Vaughn. Direi che hai ragione, commentò. Ma... vorrei sapere come potresti addurre come motivo valido e sufficiente. Spero proprio che non si debba arrivare a questo, Martin. Avevo sperato di non dover giungere a tali estremi in questo colloquio. Ti credevo più malleabile una volta saputo come la pensavamo io alla giunta. Tutta la giunta? La maggioranza. Chi, per esempio? Non intendo di certo a starmene qui a elencarti i nomi. Non sono autorizzato a farlo. Ti basti sapere che ho il consiglio municipale alle spalle e se tu non vorrai comportarti in modo sensato metteremo al tuo posto qualcuno disposto a farlo. Brody non aveva mai visto Vaughn così aggressivo e minaccioso. Era affascinato ma anche un po' scosso. Tu ci tieni proprio molto, eh Larry? Sì. Sentendo di aver vinto, Vaughn aggiunse in tono disteso. Fidati di me, Martin. Non avrai a pentirtene. Brody trasse un sospiro. Merda, borbottò. Non mi va questa storia. Puzza. Ma se è tanto importante, ok. È davvero importante. Per la prima volta da che era entrato, Vaughn sorrise. Grazie, Martin, disse alzandosi. Adesso mi spetta il compito abbastanza spiacevole di fare visita ai foot. Come impedirai loro di rifischiare tutta la storia al Times o al News? Mi auguro di riuscire a fare appello al loro senso civico, rispose l'altro. Come con te. Palle. Abbiamo un elemento a nostro favore. La Watkins non era nessuno. Una che se ne andava attorno. Niente famiglia, né amici intimi. Diceva di essere arrivata qui con l'autostop dall'Aidao. Per cui nessuno noterà la sua assenza. Brody arrivò a casa poco prima delle cinque. Lo stomaco gli si era assestato abbastanza da permettergli un paio di birre prima di cena. Ellen era in cucina. indossava ancora l'uniforme rosa delle volontarie dell'ospedale. Stava affondando le mani in un ammasso di carne trita per preparare un polpettone. Ciao, disse, porgendo la guancia al bacio di Brody. Che diavolo è successo? Non hai saputo all'ospedale? No, oggi era la giornata del bagno alle signore anziane. Sono sempre rimasta nel reparto Ferguson. È morta una ragazza nella zona della Hold Mill. Come? Uno squalo. Brody aprì il frigorifero e prese una birra. Ellen smise di impastare la carne e lo guardò. Uno squalo. Non ho mai sentito di disgrazie del genere da queste parti. Se ne vede uno ogni tanto, ma non danno mai fastidio. Già, lo so, anche per me è la prima volta. E allora cosa intendi fare? Niente. Davvero? Ti pare giusto? Voglio dire, non puoi fare nulla? Certo, ci sono alcune cosette che potrei fare, in teoria, ma in pratica ho le mani legate. Quel che pensiamo tu o io non ha grande peso. Gli alti papaveri temono che non farebbe una bella impressione se scatenassimo un can-can solo perché una di fuori è finita in bocca a un pesce cane. Sono dispostissimi a puntare sulla possibilità che si sia trattato solo di un incidente sporadico, che non si ripeterà. O meglio, sono disposti a lasciare puntare me su detta probabilità, visto che il responsabile sono io. Cosa intendi per alti papaveri? Larry Vaughn per nominarne uno. Oh, non avevo pensato che potessi averne discusso con Larry. È piombato da me non appena saputo che avevo deciso di far chiudere le spiagge. Non si è dimostrato quel che si dice finemente diplomatico nell'annunciarmi che non aveva la minima voglia di vedere chiuse le spiagge. Ha detto che se ci avessi provato mi sarebbe saltato il posto. Non riesco a crederci, Martin. Larry non è tipo da cose del genere. Lo pensavo anch'io. Ehi, a proposito, tu ne sei qualcosa dei suoi soci? Dell'agenzia? Ho sempre pensato che non ne avesse. Credevo che Penrose fosse un suo secondo nome o qualcosa di simile. Ad ogni modo ero convinta che fosse lui il proprietario unico. E io pure, ma a quanto sembra non è così. Beh, mi sento più tranquilla sapendo che hai parlato con Larry prima di prendere una decisione. In genere lui ha una visione più ampia, più globale delle situazioni. Saprà certo qual è la mossa più opportuna. Brody sentì il sangue affluirli alla nuca. Si limitò a dire, col cavolo! Quindi strappò la linguetta della lattina di birra, la gettò nella pattumiera e passò nel soggiorno per ascoltare il notiziario tv. Ellen dalla cucina gli gridò, dimenticavo, è arrivata una telefonata poco fa. Chi? Non ha detto il nome, era una voce maschile e mi ha solo chiesto di comunicarti che stai cavando te la meraviglia. Simpatico da parte sua, non trovi?